Comandante, puoi venire a dare un'occhiata? Il sole uccide tutti nell'esatto momento in cui sorge. Ancora non sappiamo perché succede. Armand, il tenente ti cercava. Il sole, l'alba, sta provocando decessi di massa. Il vero problema è che si comportano come se niente fosse. Voi chi siete? Una squadra di ricerca subacquea. Restare qui sarebbe ancora più rischioso. Cercano tutti quel rifugio. Dovete riuscire a trovare quel rifugio prima, che è l'alba! Sorca! È quasi l'alba, signore. Dovremmo iniziare l'immersione. Siamo tutti nervosi. L'equipaggio è sotto pressione. Signore, secondo il protocollo... La diavolo è il protocollo, Umut. Non possiamo più permetterci di seguirlo. È deciso. No, signore, apra subito! Abra no! No! Comandante, finché non moriremo non ci sarà un nuovo inizio. Solo così il mondo rinascerà. Perché cambiamo rotta? Se commetti un altro errore, ti do la mia parola che ti sparo in testa. No! Non voglio morire! Non voglio morire!